In primo piano nel nostro Tg la cronaca dal mondo del lavoro proclamato lo stato di agitazione di oltre 350 addette ai servizi di pulizia del San Carlo di Potenza e del CROB di Rio Nero. Un osservatorio permanente sugli infortuni sul lavoro. La richiesta arriva dal prefetto di Potenza Giovanna Cagliostro a margine del vertice svoltosi oggi in prefettura. La politica dopo l'Assemblea Nazionale dei giorni scorsi a Roma cambia la geografia interna all'area renziana nel PD Lucano. Due aziende della provincia di Matera segnalate all'Agenzia delle Entrate dalla Guardia di Finanza scoperto un'evasione dell'IVA per oltre 2 milioni di euro. Zone economiche speciali, anche Senisi è stata inserita nel perimetro della ZES Ionica. Intanto il Comitato Materano è al lavoro per il nuovo incontro fissato per domani. Ciclismo dopo il giorno di riposo riparte oggi il Giro d'Italia con un acronometro individuale in cui Pozzo Vivo dovrà difendere il terzo posto su un terreno però a lui sfavorevole. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo avete sentito dai titoli. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione di oltre 350 addetti ai servizi di pulizia del San Carlo di Potenza e del CROB di Rio Nero. Sentiamo perché da Michelangelo Russo. Rischia di diventare una polveriera sociale il settore degli appalti pubblici in sanità. Flitcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux Wheel di Basilicata hanno proclamato lo stato di agitazione dei circa 360 addetti ai servizi di pulizia e ausiliarato all'ospedale San Carlo e al CROB. Dopo che nei giorni scorsi le stesse organizzazioni sindacali avevano proclamato lo stato di agitazione di altri 200 lavoratori circa impegnati nelle strutture sanitarie dell'ASP. La decisione dei sindacati è arrivata a seguito delle infruttuose riunioni con le direzioni dei due nosocomi nelle quali è emerso, denunciano i sindacati, un taglio del 30% del monte ore, taglio che mette a rischio, secondo i sindacati, occupazione salari per dei lavoratori inquadrati prevalentemente con contratti part-time a meno di 18 ore settimanali che rischiano di perdere il posto di lavoro o di vedere ulteriormente ridotta la propria busta paga. Nel mirino di Flitcams, Fisascat e Wiltux finiscono la stazione unica part-tante, la stessa regione basilicata accusata dalle tre sigle sindacali di non vigilare come dovrebbe sul rispetto delle leggi, dei capitolati d'appalto e dei contratti nazionali di lavoro. Filcams, Fisascat e Wiltux nel rivendicare la convocazione urgente di un tavolo di confronto regionale su tutta la partita degli apparti pubblici e la costituzione della task force ad hoc promessa dall'assessore regionale della salute Flavia Franconi e mai implementata, invocano il rispetto delle regole in un settore particolarmente delicato, quale quello della sanità, che impone standard di qualità rigorosi a tutela della salute dei cittadini e degli utenti dei servizi sanitari. Restiamo in tema perché il comitato di direzione della stazione unica part-tante della regione basilicata, in una nota diffusa poco fa, precisa che il legislatore statale ha stabilito che il nuovo appaltatore non è quello che offre il prezzo più basso, ma quello che organizza il lavoro nella maniera migliore. Questa regola, si legge nel comunicato, non può essere cambiata. Inoltre, la stazione unica part-tante della regione per il ruolo assegnatele dal legislatore regionale nazionale non può essere coinvolta in un percorso sindacale datoriale che non le compete. I problemi di cui parlano i sindacati spetta ad altri affrontarli e risolverli. Si è riunita oggi in Prefettura Potenza la conferenza provinciale permanente dedicata al fenomeno sugli infortuni sui luoghi di lavoro. La riunione fa seguito a quella già tenuta il 5 aprile scorso ed è stata nuovamente indetta dal prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, per continuare la riflessione congiunta tra le istituzioni e le parti sociali sulle sinergiche iniziative di prevenzione e di contrasto agli infortuni sul lavoro in un momento in cui nel territorio della provincia di Potenza si sono registrati diversi eventi tragici. Nell'occasione il prefetto ha chiesto l'istituzione di un osservatorio permanente in collaborazione con IMSS, INAIL, Forze dell'Ordine e Sindacati per monitorare gli infortuni. Nel corso dell'incontro ha annunciato inoltre che Confindustria Basilicata finanzierà una borsa di studio in ricordo dei due operai, Giovanni Caggianese e Carmine Picerni, morti alla GECO di Tito e alla Dalmine di Potenza. Torneremo sull'argomento nel Tg delle 19. Ora passiamo alla politica perché dopo l'Assemblea Nazionale a Roma cambia la geografia interna all'area renziana nel PD Lucano. Il servizio è di Mara Risola. Quell'aria avvelenata che ha invaso il Salone dell'Ergifi a Roma in occasione dell'ultima Assemblea Nazionale del PD è arrivata anche nella compagine lucana. O forse c'è sempre stata? Un clima di tensione che tanto a livello nazionale che locale spacca in due il fronte renziano, diviso tra chi prosegue nel sostegno alla linea del segretario dimissionario Matteo Renzi e chi pensa invece sia necessario aprire una nuova pagina. E in quei 297 voti favorevoli alla relazione del reggente Maurizio Martina ci sono anche pezzi del PD di Basilicata. Vicini alle posizioni dei leader nazionali Gentiloni, Fassino, Franceschini e Minniti, fortemente critici verso il senatore di Rignano. In Basilicata lo specchio della crisi nazionale è un dato di fatto che già con la questione congressuale di questi giorni manifesta tutta la sua potenza di sgregatrice. Tra quei 297 voti per Martina ci sono anche quelli dell'assessore regionale Roberto Cifarelli dell'area Orlando, del presidente del partito lucano Vito Giuzio, appartenente alla corrente di Piero Fassino, e dei delegati dell'area Emiliano, il presidente della quarta commissione consigliare Piero Lacorazza e la portavoce di frontedè Vittoria Portosiello. Incerto il posizionamento dell'ex parlamentare Maria Antezza e dell'assessore regionale Luca Braia, da qualche tempo critici nei confronti delle scelte prese dalla linea di maggioranza del partito regionale. Dal fronte dei fedelissimi di Renzi, invece, se tanto il segretario Mario Polese quanto il senatore Salvatore Margiotta hanno presenziato con un voto alla mozione Orfini, incerta la partecipazione all'assemblea per il senatore Gianni Pittella e per l'onorevole Vito De Filippo, non avvistati in sala. Per tutti gli altri, Purtusiello, Cifarelli, Giuzio di Taranto, c'è il tweet di Lacorazza a dare voce. La bradanica rischia di restare un'opera incompiuta. La notizia è che i soldi per i lavori della strada sono finite più che a una doccia fredda a meno di un mese dalla cerimonia di apertura al traffico di 8 km di nuova viabilità. Così il consigliere regionale Paolo Castelluccio che nel ricordare l'impegno dell'ANAS della messa in esercizio entro la fine di quest'anno di ulteriori 3,5 km sollecita un intervento urgente del presidente Pittella e dell'assessore Castelgrande per un incontro chiarificatore con l'ANAS anche per dare garanzie ai lavoratori dell'ATI Aleandri. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Design e restyling di interni di Vito Coviello Pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine bituminose Design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza per informazioni 340-63-70-636-vito-coviello-hotmail.it Di Traverso torna con un nuovo progetto che porterà la realtà lucana tutta all'interno degli studi della nuova TV Una nuova sfida in cui non mancherà l'analisi, l'approfondimento e l'inchiesta giornalistica con un impatto immediato grazie al confronto con gli ospiti che interverranno Caffè di Traverso dal martedì al venerdì alle 10.30 e alle 15.30 negli studi della nuova TV E naturalmente non mancherà il caffè E dopo la pubblicità ripartiamo dalla cronaca Due aziende della provincia di Matera sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate dalla Guardia di Finanza Dal 2012 al 2017 avrebbero evaso l'IVA per oltre 2 milioni di euro Sentiamo Fabrizio Di Vito Il nucleo di polizia economica o finanziaria della Guardia di Finanza di Matera al termine di due distinte verifiche fiscali ha segnalato all'Agenzia delle Entrate due aziende della provincia di Matera che nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017 avrebbero evaso l'IVA per oltre 2 milioni di euro Le aziende hanno indebitamente beneficiato di un regime agevolato connesso ad attività di esportazione pur non essendo nelle condizioni per poterne fruire I finanzieri hanno quindi proceduto al recupero dell'IVA sulle operazioni regolarmente fatturate La questione giuridica particolarmente complessa trae origine da una norma comunitaria in materia di scambi commerciali che consente la non imponibilità a quelle triangolazioni commerciali che vedono il venditore terzo spedire direttamente all'estero la merce per conto del committente senza un materiale transito della merce in oggetto nelle sedi aziendali del committente stesso Tutto questo nel caso delle due ditte del Materano invece non avveniva almeno secondo quanto accertato dalle fiamme gialle La gestione del ponte Musmeci passa dall'Asi al Comune di Potenza L'intesa è stata firmata oggi Sentiamo Celestino Benedetto L'immediato trasferimento nella competenza del Comune di Potenza del ponte progettato da Sergio Musmeci è uno dei punti principali previsti dall'intesa fra Comune e Consorzio Asi che consentirà di operare concretamente per il recupero e la riqualificazione urbana dell'intera area industriale alla periferia del capoluogo A siglare l'intesa, l'assessore comunale all'urbanistica Rocco Pergola insieme al sindaco Dario De Luca e al commissario straordinario del Consorzio Asi Un documento che ridefinisce gli ambiti territoriali di rispettiva potestà pianificatoria e gestionale e divide l'area in due parti Una, ampia oltre 40 ettari, resterà di competenza del Consorzio Industriale L'altra, di circa 217, sarà trasferita invece al Comune di Potenza Quest'ultimo avrà competenza anche sulla zona dove è stato realizzato il terminal delle autolinee extra-regionali in Viale del Basento e dei servizi ad esso connessi In particolare le aree di Viale del Basento, occupate dal terminal e di Via della Chimica, costituenti l'anello di senso unico di circolazione Resterà nella competenza del Consorzio Asi l'area su cui insiste il nuovo depuratore a servizio della città in località Tiera di Baglio mentre verrà attuato il trasferimento al Comune di Potenza di ogni competenza relativa alla rete viaria principale di servizio, presente nell'area industriale comprese le adiacenti aree destinate a verde e a parcheggio e l'impianto di pubblica illuminazione E parliamo di zone economiche speciali Anche Senisi è stata inserita nel perimetro della ZES Ionica Intanto il Comitato Materano è al lavoro per il nuovo incontro fissato per domani Sentiamo Alessandro Panuccio Attrarre investimenti diretti, soprattutto di soggetti stranieri Aumentare la competitività delle imprese insediate Incrementare le esportazioni Creare nuovi posti di lavoro e rafforzare il tessuto produttivo Attraverso stimoli alla crescita industriale e all'innovazione Questi gli obiettivi delle ZES, le zone economiche speciali E di questi giorni la notizia che la Regione Basilicata ha confermato l'inserimento dell'area industriale di Senise nel perimetro della ZES Ionica la zona economica speciale interregionale con la Puglia che farà capo al porto di Taranto L'inglobamento dell'area industriale di Senise nella ZES rappresenta una forte e importante occasione di rilancio per il senisese ha spiegato il sindaco Rossella Spagnolo Un risultato importante che permetterà un rilancio di politiche del lavoro e di piani di reindustrializzazione Il senisese avrà opportunità di crescita e sviluppo Si lavorerà al rilancio dell'area con investimenti compatibili con le peculiarità territoriali Per comprendere l'importanza di questo strumento e benefici ci fa notare il coordinatore del comitato ZES Lucana 2017 Pierluigi Diso si può verificare quanto già accaduto in Polonia dove tra il 2005 e il 2016 nelle ZES sono stati creati oltre 300.000 nuovi posti di lavoro attraendo investimenti di 23 miliardi di euro Tutto questo può e deve essere attuato nella ZES Apollo Lucana come retroporto di Taranto Per sostenere l'iniziativa e accelerare i tempi il comitato ha invitato Fulvio Di Blasio segretario generale dell'autorità portuale del Marionio anche per il prossimo incontro insieme ai sindaci dei comuni interessati sindacaliste e associazioni di imprenditori A seguire il comitato invierà una sua relazione alla task force costituita presso la regione Puglia per una proposta condivisa Ieri mattina il Parco di Montereale a Potenza si è animato grazie ad un'iniziativa promossa dalla Federazione Lucana Bocce che ha coinvolto oltre 200 bambini Vediamo L'allegria dei bambini ha colorato la pineta di Montereale in occasione dell'evento Bocce Tutti in Gioco 13 classi di 4 plessi di 3 istituti comprensivi di Potenza la Sinisgalli e la Don Milani e Melfi, il Ferrara Marottoli hanno partecipato alla manifestazione finale del progetto FIB di avvicinamento dei più piccoli alla disciplina delle bocce Gli alunni, aspiranti bocciofili si sono destreggiati in giochi di agilità e di precisione propedeutici all'accosto e le quinte classi hanno in più disputato una prova a Terna superata poi dalla Ferrara Marottoli e di Melfi ma lo spirito dell'iniziativa è tutt'altro che agonistico come ha spiegato il presidente del Comitato Regionale Basilicata della FIB Francesco Dente I ragazzi sono qui non per disputare partite o per disputarsi una vittoria ma soprattutto per trovare un momento di condivisione di socializzazione e di divertimento speriamo che ci siamo riusciti Ospiti della manifestazione anche gli atleti paralimpici del centro rotale di Di Potenza gestito dalla cooperativa La Mimosa che insieme ai bambini in un clima di perfetta inclusione si sono misurati sui tiri all'accosto Le gare non hanno predisto delle classifiche bensì la premiazione di tutti i partecipanti per l'impegno profuso sia nella giornata che durante il percorso didattico sportivo compiuto durante l'anno con gli educatori del Comitato FIB Basilicata I racconti delle vecchie e nuove emigrazioni quelle di massa del secolo scorso e le nuove emigrazioni fatte di fughe di cervelli e di fuga dalla guerra raccontate dai giovani con video e produzioni artistiche raccolte nei pannelli della mostra Basilicata Terra di Emigrazione e Terra di Accoglienza Storie di Lucani I lavori sono stati presentati stamani a Potenza nel corso di un incontro organizzato per celebrare la giornata dei lucani nel mondo Questi straordinari lavori, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Vito Santarsiero, rappresentano una sintesi delle storie che hanno segnato la nostra terra con una sensibilità che contraddistingue i giovani lucani futuro della Basilicata Torneremo nel dettaglio sull'argomento nelle prossime edizioni del Tg Ora parliamo di ciclismo Dopo il giorno di riposo riparte oggi il Giro d'Italia con una cronometro individuale in cui Pozzovivo dovrà difendere il terzo posto su un terreno a lui sfavorevole Sentiamo Luigi Santopietro La Crono sarei contento se riuscisse a perdere non più di un minuto e 40 secondi Così Domenico Pozzovivo, terzo in classifica nel centunesimo Giro d'Italia e primo degli italiani ha la vigilia della crono individuale che potrebbe cambiare o addirittura stravolgere la classifica generale Lo confermo, aggiunge il corridore della Barea in Merida Il mio obiettivo rimane il polio a Roma spero tanto di riuscire a raggiungerlo Nella crono di 34 km da Trento a Rovereto Pozzovivo dovrà correre in difesa di quel terzo posto che nelle prime due settimane ha largamente meritato con prestazioni sempre convincenti Anche se i detrattori faranno notare la mancanza di un acuto che avrebbe reso il suo giro di livello assoluto E forse anche questo il motivo per cui in questa prima parte di giro si parla più della crisi di Aru che dell'exploit del ciclista Lucano mai così in alto in una precedente edizione della Corsa Rosa Sicuramente è una cosa che un po' Dalla parte sì, ho notato non mi ha fatto grandissimo piacere però io dalla parte mia è sempre stato un po' il mio marchio di fabbrica cercare di fare sempre il mio meglio e far parlare la strada Oggi ci vorranno parecchi watt per muoversi lungo i 34 km a cronometro da Trento a Rovereto tracciato totalmente piatto veloce da oltre 50 all'ora di media Pozzo è sfavorito ma proverà a difendersi dagli attacchi di Frum e Pinot Ed è tutto per quest'edizione grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata